Oggi inizieremo parlando di economia medievale e degli eventuali parallelismi storici, se ci sono, lo vedremo dopo, con il momento economico e finanziario che stiamo vivendo. Ne discuteremo con lo storico Paolo Evangelisti, autore del pensiero economico nel Medioevo. Benvenuto Evangelisti. Grazie. C'è docente presso il pontificio Ateneo Antoniano di Roma, autore di vari sacci e monografie. Allora, il pensiero economico nel Medioevo, edito da Carrocci, ricordo, ricchezza, povertà, mercato e moneta. Abbiamo detto, e lo vedremo, se ci sono, probabilmente ci sono, dei parallelismi con quel momento. Ma vediamo fu da prima o male. Il Medioevo non era un periodo nel quale il denaro era considerato lo sterco del diavolo. Le Goff, giustamente, sempre citato nel nome degli storici, appunto, è il più noto in Medioeviisti francesi. E intitola proprio così il suo ultimo libro. Prima di risponderle sul punto, io vorrei spezzare una lancia nei confronti di quegli ascoltatori, che credo siano la maggioranza, che nutrono una certa diffidenza nei confronti dell'economia e della sua storia. Siamo infatti abituati a pensare l'economia come una selva impenetrabile ai più, fatta di numeri, di indici, codificati con sigle di fatti incomprensibili. E per questo proviamo una sorta di ritrosia, di voglia di autoescluderci dalle discussioni che iniziano con quelli che chiamiamo i fondamentali dell'economia. PIL, tasso di sconto bancario, per poi passare a rating, a quantitative easing, a helicopter drop, TTIP. Ma dietro ogni numero, vorrei far riflettere su questo agli nostri ascoltatori, c'è un indice. E dietro ogni indice ci sono migliaia di parole che sono servite per definire, e prima ancora a concettualizzare, quindi a discernere e a separare quell'indice, quel fattore, da altri fattori che in realtà non sono null'altro che azioni, inclinazioni, comportamenti dell'uomo. Non dimentichiamoci che senza le parole i numeri dell'economia non sono nulla. Senza la consapevolezza del loro significato, della loro non scontata neutralità, l'economia non è solo una scienza iniziatica, ma rischia oggi di trasformarsi in un orto separato dal mondo, un orto che può anche disseccarsi, perché rischia di perdere, almeno a mio giudizio, il contatto vitale, imprescindibile, con il soggetto centrale che non è l'homo economicus, ma l'uomo nella sua interezza. In fondo è quello che dice anche Papa Francesco nel suo Magistero quotidiano. Ma vengo più precisamente alla sua domanda, a riferimento all'emminente medievista francese. Se uno si prende la briga di leggere direttamente le fonti scritte, cristiane, teologiche, giuridiche, ma anche iconografiche, vede che accanto a Giuda, al pessimo mercante, che porta sempre in mano il sacchetto delle monete dannate, c'è sempre qualcuno invece che viene esaltato e glorificato, non condannato per l'uso del denaro. Ma che vendeva qualcosa che non era suo. Che non era suo, e ha fatto commercio di quello che non gli apparteneva. E questa è l'accusa principale. E questa è l'accusa principale che lo porta. Che lei mette bene nel suo libro, sì. E quindi, dicevo, nel Medioevo, e già nei primi secoli di vita della Chiesa, c'era insomma un cattivo e un buon uso del denaro. E solo il primo era appunto sterco, l'altro era tutt'altro. I testi cristiani, almeno da Sant'Agostino in poi, parlano della buona moneta come moneta di Dio. La paragonano all'ostia consacrata, anche per la forma e la circolazione che questi due oggetti hanno in comune. Non è blasfemo se lo dice Sant'Agostino. Assolutamente no, è un padre della Chiesa, il dottore della grazia. La paragonano questi testi all'anima fedele, che è in rapporto con il creatore, che è anche creatore della moneta. Dante, per esempio, nella Divina Commedia, in un canto del paradiso, non dell'inferno, la paragonano alla fede stessa, alla sua fede di Dante, alla sua fede in Dio. Potremmo quindi dire che allora, e anche oggi, veniamo a un versante di attualità, c'è moneta e moneta. Oggi potremmo dire che la moneta sterco del diavolo sono i derivati, i depositi non tutelati. Non so cosa direbbe Dante di qualche banca fiorentina attualmente. Sì, potremmo anche farne il nome. Oggi potremmo dire che, per esempio, questa moneta sterco del diavolo sono le polizze vita, per esempio, di cingoli cittadini che sono utilizzate per coprire rischi finanziari e salvataggi di istituti bancari che hanno fatto, a mio modo di vedere, scempio delle regole dell'etica economica. Oppure tassi di interesse che, per prestiti al consumo, che io definirei davvero usurari, a fronte di un Euribor sotto zero, dunque ad un denaro che le banche acquistano a meno del suo stesso valore nominale, poi abbiamo prestiti chiesti ai cittadini che vanno dal 6 al 9% di TAEG. Dall'altro lato, per fortuna, anche oggi credo che ci sia una moneta buona. L'euro, quando la BCE svolge la sua politica, avvia regole finalmente comuni per politiche bancarie, i depositi bancari garantiti anche con il bail-in, oppure il microcredito, pensato come motore di sviluppo delle economie poco o per nulla finanziarie. Sì, anche se non tutti sono d'accordo sull'euro in questi termini. No, no, ma poi ne discuteremo, però credo che si possa ragionare anche su questo. Io credo che comunque, per chiudere su questo, visto che c'è una domanda diretta, io credo che bruciare l'euro oggi come oggi non serve a nessuno. Se poi torneremo sulla moneta, in questo momento ci terrei a dire che basterebbe pensare a quello che succede. Succederebbe, in questo caso, a Riad, a Shanghai, a Nuova Delhi, a Wall Street, dei titoli di Stato di paesi che passassero dall'oggi al domani a una monetina nazionale. Ormai c'è la crisi economica appunto iniziata nel 2008, abbiamo visto cosa è successo in Grecia, dopo varie crisi economiche, oltre alla nostra, quella di Spagna, Irlanda e Portogallo, c'è questo rischio di deflazione, anzi non più tanto rischio, visto che in deflazione ci siamo di decrescita. Si è parlato qui di fine del capitalismo, senza però parlare di un exit strategy. Questa fine del capitalismo c'era già stata, si paventava, si è mai paventata anche in epoche più remote, quando cominciavano a sorgere appunto le prime banche, c'erano le prime fiere commerciali, lei nel suo libro parla di tutto il commercio delle repubbliche marinare? Guardi, io la ringrazio per questa domanda che è un po' forse la domanda centrale, che può invitare anche i non specialisti a leggere qualche capitolo di questo libro. Innanzitutto dobbiamo parlare non della fine del capitalismo, che presuppone al mio modo di vedere un'impostazione ideologica della lettura dei fatti economici e politici, ma della fine del capitalismo storico, cioè di un'esperienza plurisecolare sviluppatasi in forme diverse, cioè il capitalismo liberista, di alcune fasi, per esempio, dell'Inghilterra o degli Stati Uniti, il capitalismo ben temperato delle economie sociali di mercato dei paesi nord-europei, il capitalismo fortemente spinto dalle istituzioni pubbliche che l'Italia ha conosciuto negli anni del boom economico, ma anche la fine delle economie fondate sull'ideologia anticapitalista, quelle del socialismo reale, che ha smesso definitivamente di funzionare non con la caduta del muro di Berlino, ma l'altro ieri, con la morte di Castro, che ha segnato questa sì la fine del ventesimo secolo, la fine della storia del Novecento e delle sue ideologie. Non è quindi un modello ad essere andato in crisi, è qualcosa di ben più importante e complesso. Non è insomma una questione che si risolva mettendosi dalla parte del pensiero di Marx o contro l'icona di Marx, anche perché Marx stesso ha condiviso di questo modello complesso un elemento essenziale, la fede nello sviluppo accrescitivo ed espansivo, inteso come una retta che punta sempre verso l'alto, quella che io chiamo la devozione al PIL. Non so chi si ricorda dei piani quinquennali dell'URSS decisi dai poliburò di Mosca. Tutti falliti poi naturalmente. Come? Sì, tutti falliti, o come le famose NEP, la nuova politica economica di Lenin o di Stalin. Però in fondo il gioco era lo stesso, cambiavano gli attori, ma occorreva sempre rincorrere quell'obiettivo. L'economia sta bene, dunque un paese sta bene, se il suo PIL cresce. Sta male se il PIL si ferma o regredisce rispetto all'anno precedente. Da questo punto di vista, che siano gli Stati Uniti o sia stata l'Unione delle Repubbliche Socialiste sovietiche a realizzare l'incremento di questo numero magico del PIL, poco importa. È evidente la pochezza di questo ragionamento, ma questo è l'indicatore supremo su cui si basavano e si basano tutte le valutazioni economiche, tutti i rating di affidabilità che vengono misurati per ogni paese del mondo, così come per ogni settore economico. Tuttavia sarebbe altrettanto infantile pensare che basti semplicemente cambiare l'indicatore o aggiungerne un altro per risolvere la crisi strutturale del capitalismo ribadisco storico. È chiaro che bisogna prima ripensare gli obiettivi dell'economia e solo dopo gli indicatori che la misurano. Ed è qui che può aiutare la lettura delle fonti scritte dagli uomini che vissero prima della cosiddetta era capitalistica, perché essi ragionavano di economia senza essere costretti nelle maglie d'acciaio delle ideologie economiche e anzi ragionavano di mercati e di denaro ancora prima che nascesse l'idea che l'economia fosse una scienza dotata di asserite leggi neutre applicabili ugualmente in ogni parte del mondo. Noi parliamo di qualche migliaio di anni fa, però il mondo era quello del bacino al Mediterraneo, lì c'era il mondo, quindi ovviamente qualunque azione fatta da un mercante era come se avessero i 10 banchi adesso, quindi aveva un impatto. un impatto. Senta, e arriviamo al punto centrale del volume, ovviamente parliamo dei francescani, loro i frati minori, ideato, pensato da Francesco naturalmente, che basava tutto il suo potere potremmo dirlo proprio, sul non potere, sul non avere, cioè sulla mancanza di soldi, sulla povertà assoluta, cioè chiaramente adesso abbiamo Papa Francesco, quindi quanto porta avanti il Papa Francesco della, anche chiamiamola politica francescana effettivamente, e le difficoltà che trova? Ma io direi che questo aspetto meriterebbe quasi una trasmissione a parte per lo straordinario apporto che i professionisti della povertà volontaria, perché questo furono i francescani tra due e cinquecento, portarono alla cultura politica ed economica appunto del basso medioevo, cioè dal XIII al XVI secolo. È una scelta che si imporrebbe, come diceva lei, anche per il riferimento a Papa Francesco, un Papa che per la prima volta nella storia dei pontefici ha osato utilizzare il nome di Francesco associandolo a scelte pubbliche di povertà, a uno stile di vita che Bergoglio ci fa vedere subito, ricordo la sera della sua elezione, quando rifiuta la croce d'oro, continua a vivere in Santa Marta, se ne va in giro con la sua borsa consunta di cuoio, insomma sono segni tangibili di una scelta che ovviamente è molto più profonda, perché il suo pontificato costruisce e consolida una serata riflessione sull'economia e l'etica dei mercati già avvenuta, ricordo con la Caritas in Veritate del suo predecessore che fu una grande enciclica di Benedetto XVI. Sono tutti atti e scelte che davvero richiedono di essere meglio conosciuti e discussi anche alla luce di quella cultura francescana dell'economia che nasce proprio nel medioevo, dalla scelta di volontaria povertà, da quell'autospossessamento a cui faceva riferimento anche lei, che nasce, la rinuncia volontaria al dominio, la rinuncia assoluta a possedere il denaro, le cose e gli uomini, quindi una povertà davvero volontaria. E' molto importante gli uomini parlando proprio di schiavitù, questo mi viene in mente anche il tema di storie, qui parleremo per tardi verso la fine della trasmissione, il tema, la tematica era proprio la schiavitù, un anno fa, che ne abbiamo parlato molto, a Gorizia, che non è scomparsa assolutamente la schiavitù. Assolutamente no. E' nascosta sotto varie forme. Prego. No, e quindi per venire al merito della questione, quindi come mai i francescani, i campioni della povertà, diventano dei pensatori di economia? Parebbe la cosa, l'antitesi più assoluta. Ma in realtà la questione è molto semplice, se vogliamo, cioè tutto nasce da un problema interno all'ordine. Come fa a vivere, a mangiare, a vestirsi un uomo che ha rinunciato ad ogni cosa, compreso il diritto ad utilizzare il denaro? Addirittura la regola dice che è vietato al francescano toccare indirettamente il denaro. Cioè un francescano non poteva neanche usare un bastone per toccare il denaro perché già infrangeva la regola. Da questa sfida che i francescani si autoimposero, sulla scia dell'esempio del poverello di Francesco stesso, sfida che, ricordo, venne loro contestata duramente dal clero, dai vescovi e su su fino al papa, scattori una riflessione serratissima su alcune questioni di fondo del vivere economico dell'uomo. Non furono i mercanti, ma i francescani a focalizzare, io cito qui alcuni esempi perché ovviamente abbiamo pochissimo tempo, ma a focalizzarsi per esempio sulla differenza tra povertà e necessità, a definire la soglia del superfluo, a comprendere che c'era una profonda differenza tra l'oggetto monetato che chiamiamo denaro ed il potere che qualsiasi cosa ha, denaro compreso, di fruttificare, sino a definire il concetto chiave in economia che noi oggi tutti usiamo, ma che fu un'invenzione, una scoperta francescana, di valore d'uso. E ancora, esprimere la consapevolezza economica che il mercato non poteva funzionare se non vi erano mercanti ben dotati dal punto di vista finanziario, se non vi erano cioè i mercatori specuniosi, e se non vi era una consapevolezza anche etica che il denaro non doveva stare fermo, sequestrato nei forzieri, ma doveva circolare, passare necessariamente di mano in mano. E ultima cosa su cui voglio richiamare... Questo appunto meritebbe una trasmissione, però la circolazione del denaro è dove va il denaro. E dove va il denaro. E in questo senso un legame fortissimo con questa riflessione ce l'ha la riflessione che loro fecero sul tempo. Loro distinsero per la prima volta un tempo fisico, che dicevano apparteneva solo a Dio, era invendibile, invendibile, da un tempo che appartiene ad ogni uomo e perciò è vendibile e contrattabile. E vabbè, qui mi fermo perché... Effettivamente. Altri padri della Chiesa. Prima citavamo Sant'Agostino. Cioè che visione avevano? Contrapposta a magari quella che poi ebbero i francescani? Ci furono vari... Ma in realtà, diciamo che non... I padri della Chiesa, che io mi è capitato di studiarli proprio per scrivere questo libro, perché io mi occupo del periodo basso medievale, ho approfondito il pensiero della Chiesa nei primi secoli e devo dire che la riflessione di Agostino non è assolutamente isolata e non è assolutamente, diciamo, in contrapposizione con altri pensatori della prima Chiesa. Ricordo che ci sono, io ne ho contati, almeno 17 passi evangelici che si occupano di definire che cosa è bene e cosa è bene economico. E la prima Costituzione apostolica, cioè il primo testo normativo che diede proprio delle norme, addirittura quasi penali, per come governare il denaro all'interno delle prime comunità apostoliche, la Didache, si è occupato nella direzione di Agostino di valorizzare utilitariamente il denaro. Ringraziamo Paolo Evangelisti, l'abbiamo fatto correre oggi purtroppo, siamo molto, siamo a corto di tempo, non di denaro, ma anche questo. Ma comunque torneremo anche su un libro che tu hai stampato, ho fatto stampare anni fa per il Molino, proprio che riguardava un altro francescano, che riguardava il post crociate. La nuova politica per il Mediterraneo. Per questo ci torneremo assolutamente una promessa di Paolo Evangelisti, abbiamo presentato il pensiero economico nel Medioevo, ricchezza, povertà, mercato moneta.